Coincidenze perse, appuntamenti mancati e problemi in ufficio, lezioni universitarie saltate. Sono le conseguenze dell'ennesima mattina di ritardi sui treni di Trenord che collegano Como con Milano. Disagi così frequenti ormai da costringere i pendolari a calcolare la propria vita lavorativa o universitaria aggiungendo agli orari ufficiali di Trenord almeno un quarto d'ora nella migliore delle ipotesi perché poi accade che come stamattina i treni arrivino a destinazione con mezz'ora di ritardo. I convogli dell'alba hanno circolato senza problemi poi in orario di punta come al solito si è creato qualche intoppo che ha rallentato il treno più frequentato quello in partenza da Como San Giovanni alle 7 e 13 arrivato alla stazione di Milano centrale con 24 minuti di ritardo. Ritardo poi conservato pur in misura minore dal treno successivo in partenza da Como alle 7 e 34 arrivato a Milano un quarto d'ora dopo il previsto. Quello ancora successivo 8 e 13 da Como ha viaggiato con soli 7 minuti di ritardo quindi la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Sembrava appunto perché il treno delle 9 e 13 da Como San Giovanni è arrivato a Milano centrale mezz'ora dopo il previsto. 30 minuti di ritardo su una corsa che dovrebbe durarne 37.